Sono pronti per diventare parte integrante ed essenziale di un nuovo modello di sanità territoriale i medici di famiglia che riuniti a Bari per l'assemblea provinciale della FIMG chiedono alla regione di estendere il modello pugliese di assistenza primaria già sperimentato. Dopo due anni di lavoro sui nostri software di gestione, con un lavoro di scrinatura dei nostri pazienti, abbiamo chiaro quelli che sono gli obiettivi di salute delle patologie croniche e quindi l'ipertensione arteriosa, il diabete, le bronchiti croniche o struttive. Con un investimento di 50 milioni sarebbe possibile in 5 anni portare a regime un modello che prevede che tutti i medici di famiglia lavorino in forma associata, in sedi uniche, garantendo l'assistenza H24 e utilizzando collaboratori di infermieri, un aspetto che oltre a favorire l'occupazione determinerà un aumento di personale dipendente da parte delle ASL senza alcun onere per il cittadino e visto che sarebbero assunti dei medici senza i problemi legati alle limitazioni previste dal Ministero dell'Economia. Oggi il problema grande di questa nazione, di questa regione, sono proprio le cure domiciliari. Quindi se avessimo la possibilità di portare a compimento il progetto e portare quindi nella medicina generale pugliese il personale di studio all'interno dei nostri studi, sicuramente i livelli di qualità miglioreranno notevolmente.